L'abbandono del piccolo Francesco Alberto e il neonato ritrovato pochi giorni fa all'interno di un sacchetto in una zona di campagna di Paceco ha smosso i cuori e le coscienze di molti, non solo in provincia di Trapani ma in tutta Italia. Il piccolo sta bene, questo è ciò che conta, ma le ragioni che hanno condotto la madre ad oggi non ancora identificata ad un gesto così estremo possono essere tante, sociali, economiche, culturali e tutte certamente sofferte. Occorrono misure a sostegno della genitorialità e della maternità che se scelte possono coniugare entrambe le necessità quella della donna che vuole restare anonima alla società e quella del figlio a poter crescere in un'altra famiglia. Circa un anno fa è stato avviato un progetto che prevede la realizzazione di una culla per la vita nei locali pastorali della parrocchia di San Pietro a Trapani. La culla per la vita è una versione moderna e tecnologicamente avanzata dell'antica ruota degli esposti che era presente in molte città della nostra provincia e non solo e che serviva a scongiurare l'abbandono di bambini appena nati così come è accaduto qualche giorno fa nelle campagne di Paceco dove è stato ritrovato il piccolo Francesco che, ringraziando il Signore e ringraziando anche tutti coloro che l'hanno soccorso, sta bene. Questa culla per la vita che stiamo realizzando presso la parrocchia di San Pietro è dotata di un impianto di videosorveglianza che monitora esclusivamente il cuscino dove eventualmente verrebbe riposto il neonato garantendo quindi la privacy di chi verrebbe a portare il bambino. Certamente non è la prima possibilità da tenere in considerazione. La legge italiana, infatti, attraverso il parto anonimo consente alla madre di partorire in ospedale in un contesto di totale sicurezza dove al bambino sarà assicurata l'assistenza e la tutela giuridica. È un modo per sottolineare un disagio che la donna vive quando si tratta di una maternità non voluta, di una maternità indesiderata perché la società è una società che giudica. Infatti mi vengono in mente le parole dello stesso carabiniere che ha trovato il bambino. Non voglio giudicare, ma sicuramente è una mamma che è in sofferenza o dei genitori che hanno deciso così. Sicuramente non sappiamo quali sono i motivi di questa mamma. Spesso, da sempre, ci sono stati bambini abbandonati, neonati abbandonati, che hanno visto la vita continuare, ma ci sono anche tanti altri casi che noi non conosciamo e che non vengono alle cronache. È importante, anche socialmente parlando, istituire delle misure per sostenere la genitorialità in questa società che è fatta anche di precarietà, di diversi problemi sociali? Assolutamente. È una società che è fondata su che cosa? È fondata sul profitto. Quindi noi diamo ai nostri figli in eredità questa società fondata sul profitto, sulla sopraffazione. Stiamo vivendo giorni, diciamo, bui, la guerra, quindi tutto rimane precario, tutto è incerto, perché è una società fondata sul profitto e sui soldi. Ecco, cercare di, diciamo, riprendere e cambiare paradigma non è semplice. Il paradigma è quello dell'amore. Quindi se noi riusciamo, intanto se sopravviviamo a queste vicende che ci passano sopra la testa, dobbiamo necessariamente cambiare paradigma e mettere al centro l'amore. e mettere al centro l'amore.